Come mai faccio il pittore? Uno non fa il pittore, uno è il pittore, per cui ci nasci già programmato e predisposto, devi solo poi coltivarlo. All'interno di questa dimensione il fare pittura, specialmente negli ultimi anni, è diventato una sorta di pratica quotidiana che è uscita fuori dalla pura espressione, cioè non è più un bisogno soltanto espressivo, ma appunto quasi una pratica di conoscenza, di coltivazione del sé, di viaggio all'inizio di se stessi, ma di conseguenza all'interno dell'uomo e del suo stare al mondo. La pittura poi è un mezzo molto complesso, prima di tutto perché si stratifica in millenni di storia e fare i conti con tutto questo serbatoio di immagini, di esperienze, di rivoluzioni, di avanguardie, di morte della pittura, di rinascita, insomma, avere a che fare con tutta questa complessità è sempre molto difficile. Soprattutto quando la pittura diventa il tuo fine e non un mezzo che utilizzi. Mi sono reso conto che il problema non era nell'immagine, e questo è uno dei misunderstanding del linguaggio sulla pittura, perché molto spesso si continua a rimanere sull'immagine, cioè su ciò che dipingi e non su come lo dipingi. Il segno pittorico è un fatto molto complesso, perché il segno pittorico è il risultato di una manipolazione molto sottile della materia. Questa cosa, che sembra quasi una banalità, è in realtà qualcosa di molto profondo, perché se pensiamo al materiale grezzo e quindi a una tavolozza con delle terre o comunque dei pigmenti mischiati a un medium, che può essere in questo caso l'olio, e poi vediamo l'immagine finale, cioè vediamo il quadro, ci rendiamo conto che il processo che ha portato a questa epifania, che è poi quella appunto della visione dell'opera, c'è stato un processo manipolativo molto molto sottile. Io penso ai miei quadri come se fossero dei dispositivi, dei dispositivi della visione che entrano in rapporto con chi li guarda, col primo fruitore, e producono una serie di dislocazioni. Queste dislocazioni percettive ampliano la coscienza verso delle nuove percezioni della realtà, per cui l'utilizzo che posso fare anche di appunto certe immagini, come certe pitture dell'Ottocento, come tutta una serie, come dire, di archetipi che albergano nell'uomo e nella nostra cultura proprio visiva, vengono proprio utilizzati sapientemente o comunque coscientemente per creare questo tipo di perturbazione visiva e anche emozionale. Per cui la lettura del mio lavoro va sempre presa in maniera globale, non esiste mai il quadro singolo, ma esistono sempre gruppi di quadri o comunque mostre concepite come percorso, concepite come teatro, concepite come esperienza visiva e soprattutto corale. Non sono finestre sul mondo, ma è il tentativo di ricostruire una sorta di mondo.